Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, oggi è giovedì 3 marzo 2011, vedete qua questi volti, questi volti li conoscete vero? Beh, ieri ho fatto il video intitolato la nuova politica e sono arrivati tanti commenti in calcio a quel video, è apparso anche un commento di un mio amico, un mio caro amico che si chiama Optimus83ion, scritto I-RON, I-I-RON, I-ON, Optimus83ion. Il quale mi ha precisato, mi ha detto, ma guarda che relativamente all'uscita di Silvio Berlusconi sulla scuola pubblica, sulla scuola privata, c'è stata un'alzata di scudi da parte dei galantuomini dell'opposizione e che hanno detto la scuola pubblica è sacra, è inviolabile, è inviolabile. Ma poi è saltato fuori che un buon numero di questi galantuomini della sinistra, i figli li mandano le scuole private, poi le private. Io gli ho detto a questo mio amico, caro, ma tu, tu, ma mandami un link che ce lo faccia subito un video. E questo mio amico me l'ha mandato subito il link, vedete, è questo qua, è questo qua. La Torre Normanna, accidenti quanto so bravi questi della Torre Normanna, vi fanno i complimenti, cari amici, è questo qua, cari amici, cercate. Il titolo è Quelli che difendono la scuola pubblica, ma mandano i figli alla privata, è il blog intitolato La Torre Normanna. Vedete che galantuomini, guardatelo qua, forse il più galantuomo di tutti è proprio Michele Santoro, per questo che il video l'ho dedicato a Michele Santoro. Un altro galantuomo è Nanni Moretti. Nanni Moretti è una mia vecchia conoscenza, perché a Nanni Moretti gli ho appioppato, appioppato, il mio video più prestigioso, il mio video più prestigioso, che è intitolato Coito Anale e Caos Calmo. Coito Anale e Caos Calmo è un film che avrebbe, secondo Nanni Moretti, avrebbe dovuto vincere tutti i premi mondiali e che invece non ne ha vinto manco uno. No, perché lui pensava di fare cassetta, tanti soldini, con un Coito Anale. C'era una certa attrice, Isabella Ferrari, e uno degli attori era proprio lui, Nanni Moretti, capito? Un Coito Anale che ha fatto andare al bottiglino tanti, 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 scusatemi, proletari, tanti perché volevano vedere il Coito Anale, ma non c'era il Coito Anale. Era un Coito Anale che avveniva dietro un lenzuolo, un velo, lo si doveva immaginare, doveva immaginare. Lui voleva ripetere il successo di Ultimo Tango a Parigi. Ma Ultimo Tango a Parigi, con Marlon Brando, defunto, e con quell'attrice, mi pare che è morta da poco, prematuramente, ma Ultimo Tango a Parigi, fuggirà tutto nell'epoca pre-web. Nanni Moretti. Nanni Moretti, tu che sei regista, attore, dovresti sapere che oggi sul web i Coito Anale si vedono tutti integrali e gratis. Cosa vai, che poi è stato pubblicizzato il suo film, Caos Calmo, proprio per sta faccenda del Coito Anale. Andate a vedere, cari amici, il mio video intitolato Coito Anale e Caos Calmo. Ha più di 150.000 visualizzazioni. Mi ricordo che quando eravamo nell'imminenza della proiezione del film Caos Calmo, questo mio video intitolato Coito Anale e Caos Calmo, diceva 5.000, 10.000 visualizzazioni al giorno, non ci si capiva più niente. Allora, leggiamo, leggiamo qua, parliamo di questa duplice, triplice, qua duplice moralità. Ah, quanto si viene ingannati, cari amici, quanto si viene ingannati in patriarcato, cari amici. La menzogna sorregge il patriarcato, cari amici. E' tutta una meschina lotta di potere che avviene tramite menzogne, cari amici, tramite menzogne. Ma leggiamolo. Allora, allora, allora. Dunque, ancora polemiche per una frase malinterpretata dal Premier. A me non interessa un fico secco che la frase sia stata interpretata male o bene, va bene. A me interessa la falsità degli oppositori, tutti in difesa dalla scuola pubblica. Intanto, però, attori, divi, intellettuali e politici di sinistra, appena possono, mandano i figli alle scuole private. Leggiamo e poi ci sarà il commento di Serafino Massoni. Ieri pomeriggio, in mezz'ora, allora, dunque, ieri pomeriggio, beh, questo è del 28 febbraio, questo è del 28 febbraio, cioè questo articolo che vi sto leggendo, è del 28 febbraio. Siccome scrive ieri pomeriggio in mezz'ora, in mezz'ora di Lucia Annunziata, ieri pomeriggio era il 27 febbraio, voi vi andate a vedere la trasmissione mezz'ora di Lucia Annunziata, del 27 febbraio, e poi verificate, va bene. Ieri pomeriggio in mezz'ora di Lucia Annunziata non poteva mancare la solita frecciatina anti-berlusconiana del falso moderato e falso giovane Enrico Letta. Quando vedo Enrico Letta mi viene tanta tristezza, cari amici, eh. Non so per quale motivo. Stavolta il motivo della sua indignazione. l'indignazione. Friedrich Nietzsche parlava di risentimento, risentimento, risentimento. Gli uomini del risentimento, sempre incazzati! Poi, stavolta il motivo della sua indignazione di Enrico Letta era una frase volontariamente travisata, non lo so, questo non mi interessa, del Pregna sulla scuola pubblica. La scuola pubblica non si tocca, la scuola pubblica non si tocca, ha detto Letta, è il nostro futuro, è il pilastro della libertà, e via dicendo tra una banalità di un luogo comune. Un polo pubblico non si tocca, è vero che un po' ci si può scherzare alla scuola pubblica invece di dare i soldi alla scuola privata. Ormai l'indignazione dei leader di sinistra non fa più notizia e perfino l'annunziata sorridendo ha preso un po' in giro il novello difensore della scuola pubblica, ghignando contro Enrico Letta. Ma lei, i suoi figli, dove li manda? Ovviamente Letta ha fatto finta di non sentire. È lungo piuttosto l'elenco delle persone di sinistra che mandano i loro figli ad esclusive scuole private. Cominciamo! Incominciamo! Le figlie di Francesco Rutelli che una volta in treno sentì alcuni anni fa sentì dalle signore sedute in trenoli che parlavano di Rutelli e loro non lo sapevano che io le stavo ascoltando. Io facevo finta di badare i fatti miei invece le ascoltavo. E una ricordo che disse a Francesco Rutelli sì sì è proprio un bel bambolotto. Il parola d'onore di Serasino Massoni che bella quella fra un bel bambolotto. Le figlie di Francesco Rutelli per esempio sono state equamente divise fra due scuole tutte e due private. Una si è iscritta al liceo privato Kennedy l'altra al prestigiosissimo collegio San Giuseppe de Merode di Merode San Giuseppe de Merode l'istituto dei fratelli delle scuole cristiane che si affaccia niente po' po' di meno che su piazza di Spagna. Anche la discendente dell'ex ministro dello sport Giovanna Melandri per chi non lo sapesse Giovanna Melandri è questa bella signora bionda. Vediamo un po' cosa fa la progenie di Giovanna Melandri. Anche la discendente anche la discendente dell'ex ministro dello sport Giovanna Melandri ha preso la direzione delle scuole paritarie. Ma perché Giovanna Melandri gli paga i soldi alle scuole private che starebbero così bene alle scuole pubbliche se anche per andare alle scuole pubbliche si dovesse pagare la stessa somma che si paga per le scuole private di io le sarebbero costruite con loro le scuole pubbliche se chi le frequenta disse alle scuole pubbliche dalle stesse somme che sono versate alle scuole private verrebbero costruite d'oro massiccio verrebbero costruite. A casa Melandri prediligono il collegio San Giuseppe di Via del Casaletto la figlia di Michele Santoro eccolo qua Michele Santoro che lo conoscete vero? Guardatelo qua quello di anno zero è quello dell'editto bulgaro dell'editto bulgaro però ci ha mangiato per due o tre anni con Mediaset prima stava la tv di stato poi è passato a Mediaset poi da Mediaset è passato la tv di stato però ci ha mangiato Santoro per due o tre anni con Mediaset non gli ha fatto schifo a Santoro e diciamo così il denaro di Mediaset mica l'ha rifiutato mica l'ha rifiutato la figlia di Michele Santoro va allo Chateaubrianda dove la prima lingua è il francese e l'italiano è terra straniera i francesi neanche lo sanno che esiste la lingua italiana abbiamo perso la seconda guerra mondiale abbiamo perso il figlio del regista Nanni Moretti ah carino carino Giannanni Moretti caro che gli ho dedicato il mio video coito anale e caos calmo eccolo qua guardate come sorride datelo vedere il video di Serafino Massoni intitolato coito anale e caos calmo oltre 150.000 visualizzazioni e continuo ancora ad accumularne il figlio del regista Nanni Moretti è invece sintonizzato sull'inglese e cresce all'Embrette International School sempre alla capitale i discendenti di Anna Finocchiaro ma che c'è pure Anna Finocchiaro ma come è il volto è il volto sicuro è il volto nobile del PD ma anche tu tu cuoco e anche tu Anna Finocchiaro mi convini ste cose ma anche tu anche tu che sei una bella donna ma pure tu sei sempre incazzata indignata sei sempre risentita eccolo qua i discendenti di Anna Finocchiaro studiano in un istituto di Catania non è precisato ma c'è scritto i discendenti di Anna Finocchiaro studiano in un istituto si suppone privato di Catania se no non verrebbe citato qua Anna Finocchiaro io mi scuso se questa notizia è falsa però però sta scritta qua sta scritta qua sta scritta qua eccola qua eccola qua vedete Anna Finocchiaro studiano in un istituto di Catania ah se fosse vero se fosse proprio vero quello che c'è scritto qua onorevole Anna Finocchiaro davvero sarei fortemente deluso e allora non riuscirei più a capire i motivi reali delle sue motivazioni dei motivi reali delle sue indignazioni dei suoi risentimenti quando io la vedo là in Parlamento tutta incazzata perché se davvero i suoi figli vanno nelle scuole private e io posso solo pensare che lei si incazza soltanto per fare una recita una recita dalle suore i discendenti di Anna Finocchiaro quindi si pensa che ne abbia più di uno di figlia studiano in un istituto di Catania l'ex ministro della pubblica istruzione Beppe Fioroni il predecessore della Celmini ha paracadutato il rampollo al liceo scientifico Cardinal Ragonesi di Viterbo un bambino fatto esibire al Palasciar credo che sia questo il bambino credo che il bambino sia questo credo vediamo cosa gli hanno fatto dire a questo bambino vediamo cosa gli hanno fatto dire al Palasciar non so cosa sia al Palasciar neanche cosa sia successo al Palasciar perché ne succedono le cose ne succedono il bambino fatto esibire al Palasciar il mitico Giovanni si vede questo bambino si chiama Giovanni mi dico Giovanni quello che dall'alto dei suoi 13 anni ha tuonato contro i tagli della Celmini invece frequenta il carissimo carissimo San Carlo di Milano ma come ma come questo 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 blog vorrebbe dire che in un certo convigno al Palasciar questo bambino si è messo a tonare contro contro i tagli della Celmini alla scuola pubblica e poi i genitori di questo bambino mandano questo bambino al carissimo San Carlo di Milano ma allora è vero che non c'è più religione ma Letta sempre Enrico Letta che ieri tonava contro la Celmini dicendo che se la scuola pubblica è in queste condizioni la colpa da loro ricordiamo che il centro sinistra di Prodi aveva un ministro della pubblica istruzione che scriveva di fretta il figlio di una scuola privata chi deve vergognarci della propria ipocrisia insomma compagni sì ma fessi no i nostri figli li mandiamo alle scuole private perché quelle pubbliche sono piene di professori comunisti ma no ma no per me è semplice questi furbacchioni che ovviamente ingannano gli elettori mandano i loro figli alle scuole private per il semplice motivo che sono tutti a pagamento che sia chiaro e si paga anche profumatamente per il semplice motivo che nelle scuole private i cinturi non vengono disturbati non ci sono le assemblee sindacali non ci sono gli scioperi sindacali i professori si ramentano un po' di meno si rassentano un po' di meno e loro stanno tranquilli nelle scuole private sì ma il fatto è che tutte queste cose nelle scuole private avvengono è perché le scuole private diciamo nelle scuole private si sta più attenti a farne di meno di assemblee sindacali di scioperi sindacali si sta un po' più attenti e bisogna chiedersi perché invece nelle scuole pubbliche ci si sta meno attenti eh? cario caro allora dimmi dimmi caro caro e come ti chiami lì Michele Santoro dimmi per quale motivo la tua figliola l'hai iscritta allo Chateaubriand eh? celeberrimo istituto privato di Roma perché? perché non avevi forse alternative? non c'erano altri istituti statali a Roma che la tua figliola potesse frequentare oppure mi vorresti dire che la tua figliola ha fatto una scelta che tu non condividi eh? però allora ci devi dire per quale motivo la tua figliola ha fatto una scelta che tu non condividi perché la tua figliola di certo è capace di intendere di volere eh? eh spiegala ad anno zero spiegaci i motivi per cui o tu spontaneamente hai indirizzato tua figlia allo Chateaubriand oppure è stata tua figlia che autonomamente ha scelto di andare allo Chateaubriand spiegaci per quale motivo tua figlia che sarà di certo una persona intelligente spiegaci per quale motivo tu ha casomai non fossi stata stata tu a portarlo allo Chateaubriand e spiegaci per quale motivo tua figlia ha scelto di andare allo Chateaubriand eh? se non sei stato tu e neanche tua figlia se sei stata tua moglie o tua compagna spiegaci sulla base di quale motivo la tua compagna o la tua ammussignora ha chiesto di portare la figliola allo Chateaubriand Chateaubriand eh? spiegaci ma dai ma spiegale queste cose d'anno zero no eh perché i fatti contro di chiudere parole solo gli ingenui si basano sulle parole dobbiamo verificare i fatti 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 non parole amici miei questo canale è fatto apposta per aprire le menti dobbiamo guardare i fatti non le parole eccoli qua guardate che bello spettacolo qua guardate che bello spettacolo perché invece non dite ai vostri elettori non dite ai vostri elettori o ai vostri telespettatori che se se le scuole pubbliche potessero introitare dalle famiglie solo la metà di quello che le scuole private introitano dalle famiglie le scuole pubbliche potrebbero essere costruite d'oro massiccio perché non lo dite questo? è che i giovani hanno tutto hanno la motocicletta motocicletta di lusso hanno cellulari vanno in discoteca c'hanno pure i soldi non tutti ma parecchi per farsi la droga in discoteca hanno tutto ma se c'è da tirar fuori un centesimo in più per i libri di testo o perché si dice che manca la carta igienica nelle scuole succede la rivoluzione francese o la rivoluzione sovietica e invece alle scuole private ne tirate fuori di soldi in silenzio zitti zitti vieni Michele Santoro vieni a dircele queste cose ad anno zero il motivo per il quale la tua figliola frequenta lo Shatopriand dove la lingua italiana tra l'altro è considerata come una lingua paria ma spiegacelo per quale motivo e lei onorevole Anna Finocchiaro ma che delusione caso mai fosse vero che lei le sue le sue figlioli le sue figliole le manda in un istituto di Catania qua non è precisato se pubblico o privato ma siccome questo blocca l'articolo l'ha fatto su quelli su quelli di sinistra che mandano che contestano il governo ma mandano le loro figlie alle private e suppongo che anche i figli o le figlie di Angela Finocchiaro vadano nelle scuole private vedete il volto il volto indignato del PD eccolo qua il volto indignato guardate che spettacolo guardate smentitemi cari amici smentite questo sito per piacere smentitemelo questo sito quello che ha affermato in questo sito smentitemelo per piacere perché non c'è da crederci non c'è da crederci a questa duplice triplice quadruplice quintuplice moralità tutte queste facce diverse guardate che spettacolo a questo bambino questo bambino come l'hanno chiamato poverino Giovanni che frequenta il carissimo carissimo così carissimo il carissimo saccando di Milano al pala sharp di Milano e lo hanno lo hanno fatto tuonare contro i tagli della Gelmini ah cari amici cari amici che sventura cari amici cari amici che sventura che sventura cari amici cari amici Michele Santoro e l'argomento che ha trattato questo blog la Torre Normanna ma fanne fanne una puntata intera caro 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 dolcissimo Michele Santoro ma fanne una puntata intera del tuo meraviglioso anno zero dove spari i veleni spari i tuoi veleni spari che ci hai lavorato per due o tre anni mi pare a Mediaset li hai presi i soldini di Mediaset vero mica li hai rifiutati prima stavi la tv di stato poi sei passato a Mediaset e poi sei tornato ancora la tv di stato eh e e e la qua la tua figlia la mandi a Roma lo shot oprian chissà quanto spendi lo shot oprian vero eh caro spiegaci perché questa figliola sta allo shot oprian spiegacelo perché dici se ce l'hai mandata tu spontaneamente se invece è stata lei che ha fatto questa scelta e spiegaci perché lei l'ha fatta dici spiegacelo perché spiegaci se tu invece hai fatto un discorso per dissuaderla ma spiegacela danno zero perché a noi non ce ne frega niente dalle tue parole noi vogliamo vedere quale coerenza c'è tra le tue parole e i tuoi comportamenti capito? sono gli ingenui badano le parole cari amici ma questi miei video ci sono apposta per aprire le vostre menti per farvi capire che non dovete basarvi sulle parole ma sui comportamenti su quelli che contano e tanti e tanti mi rimproverano perché torno sempre su Nichi Vendola ricordando che Nichi Vendola si prende dalle casse dello Stato dalle casse dello Stato non dalle casse della Fiat dalle casse dello Stato si prende 150 mila euro l'anno e per forza che io mi meraviglio e continuo a ricordarla sta facendo che Nichi Vendola si prende 150 mila euro dalle casse erariali per fare il governatore delle Puglie per forza l'uomo più buono del mondo si presenta come l'uomo più buono del mondo si presenta come un uomo che avanza e che fa? prende gli stessi soldi che prendono gli altri governatori delle altre regioni che sono magari anche dei cattivuni di centro-destra ma l'uomo più buono del mondo se vuole dimostrare di essere il nuovo che avanza non si limita a usare le parole storia narrazione a fare poeta si priva della proprietà si priva si priva degli immensi benefici benefici di governatore questo si che è il nuovo che avanza e per questo che ci torno sopra queste cose ve le dico cari per aprirmi la mente maggioranza e opposizione pari sono oggi c'è Berlusconi domani c'è un Romano Prodi ma la vostra felicità il vostro standard è sempre lo stesso se quante volte vi ho detto che se Silvio Berlusconi crepasse oggi per un ictus voi magari ballate saltate per una settimana vi ubriagate per la contentezza poi passate la settimana vi ricordate che se eravate disoccupati continuate a essere disoccupati se stavate alla catena di montaggio continuate a stare alla catena di montaggio pure se arriva Romano Prodi se eravate in litigio con vostra moglie anche dopo che Berlusconi ha avuto l'ictus che arriva Romano Prodi sempre qui in litigio state con vostra moglie e non è che se cambia il governo cambia la vostra situazione esistenziale professionale cari amici ma non abbiamo avuto tre anni fa il governo Prodi insomma ma non vi ricordate di un governo Prodi o un governo Prodi del 1997-1998 quando alla Minerva cioè al Ministero della Pubblica Istruzione ci furono in successione due ministri post-comunisti uno era Giovanni Berlinguer e l'altro Tullio De Mauro non era la Cermini eppure per il solo fatto che l'onorevole Giovanni Berlinguer allora Ministro della Pubblica Istruzione propose che i professori dovessero essere pagati anche sulla base di una minima valutazione dei meriti scoppiò la rivoluzione francese o sovietica come preferite voi e il povero Giovanni Berlinguer dovette dimettersi allora il capo del governo di allora non ricordo se era Romano Prodi comunque era un governo di centro-sinistra siamo nel 1998-99 98-99 cari 97-98-99 si affrettarono a prendere un altro ministro Tullio De Mauro un povero 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 docente universitario nel senso che era impreparato alla lotta politica e siccome anche allora c'erano i precari io pure da giovane sono stato precario non sono mica nati ottimi oggi precari cari amici il precariato c'è sempre stato io pure prima di entrare di ruolo ho fatto un precario cari amici io sono nato il 7 febbraio del 1940 l'ho fatto pure io precario negli anni 60 e loro non era preparato e siccome i precari che si erano radunati a Napoli dissero vieni qua ministro vieni qua lui ci andò ingenuamente e lo attaccarono così duramente che si mise a piangere Tullio De Mauro che voleva andare a incontrare i precari a Napoli si mise a piangere e Tullio De Mauro mica era la Germini è il ministro che l'aveva preceduto il povero Giovanni Berlinguer mica era la Germini ma se dalla fine del conflitto dal 1945 ad oggi ci sono stati 40-50 ministri dalla pubblica istruzione non ce n'è stato uno solo che sia andato bene ce la prendiamo sempre col ministro di turno o col premier di turno inevitabile tante volte vi ho fatto osservare che quando c'era Romano Prodi Romano Prodi è stato messo in croce per due anni due anni e mezzo sia dall'opposizione che dai suoi amici due anni due anni e mezzo è stato messo in croce Romano Prodi c'era tutta l'Italia in subbuglio così si è sempre contro il premier di turno se si tratta della scuola si è sempre contro il ministro di turno dimenticandosi che il ministro di turno è solo l'ultimo di una lingua serie e di questa lunga sedia nessuno è andato mai bene è andato ma aprite le menti ve lo lascio questo panorama meraviglioso cari amici e aspetto una vostra smentita o magari aspetto che mi diate ulteriori informazioni per farci ancora un altro video con un numero maggiore di personaggi capiti del nostro bel teatrino che teatrino cari amici ma che teatrino che abbiamo qua devi andare al cinema ma quale cinema questo è il cinema cari amici eccolo qua l'industria cinematografica italiana cari guardate quanto è pensoso lì pubblica contro quell'infamone di governo attuale e guardate eccoli qua ecco adesso o voi cari amici cioè io ho detto la mia voi dite la vostra se qua c'è qualcosa di sbagliato fatemelo sapere e se invece va tutto bene magari mandatemi altre notizie in modo che io ci possa tornare e fare un nuovo video con un numero maggiore di personaggi va bene cari amici un video con un cast ancora più nutrito va bene cari va bene aprite le menti non badate a ciò che le persone vi dicono ma badate a quello quello che fanno è tanto semplice va bene grazie a tutti voi a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni